Ora posso prendere quell'elica? Fra poco. Dirk ci aiuterà, ma ci serve un altro paio di persone a bordo. Ammi dei soldi! E ti tirò il tuo futuro! Lei è Margaret. È una specialista in ingegneria e con la media migliore nella storia della scuola. Ma quando è scoppiato il casino, ha perso il suo cane. Ed allora non è più la stessa. Se lo trovassi, sarebbe una cura miracolosa per la sua depressione. Tutto pur di avere relica. Andava sempre in un parco per cani sull'altra sponda del fiume. Io controllerei prima lì. E' un'altra sponda del fiume. Stemmi giocando con stile. Più stile di mostri, più stemmi conquisti. Quando ne avrai abbastanza, scambiali con gli overdrive. Gli overdrive potenziano le tue abilità. Sono fantastici! Ora puoi sbloccare il primo overdrive. Equipaggia un nuovo overdrive nello slot vuoto. Vuoi sbloccare altri overdrive? Prima conquista degli stermi. Hai equipaggiato gli overdrive nella pagina personaggio. Gioca come preferisci e migliorerai in ciò che più ti piace. Il parco per cani si trova a Little Tokyo. Per arrivare lì dovrai passare il ponte nord. Il ponte? Ah, posso saltare sopra quelle imbarcazioni. Peccato che non esista un modo più rapido per navigare. Che tempismo! Grazie sceneggiatore. Barche? L'acqua mi fa paura. E' solo un piume, Sam. Dica il triangolo delle Bermude. Ehi, guarda che non c'è niente da ridere sul triangolo delle Bermude. Centinaia di navi sono sparite nel nulla. Migliaia di vittime! Non è solo l'angente ideale per tempeste tropicali e anomalie magnetiche. Ho letto tirattimenti alieni e tecnologie sopravvissute ad Atlantide che causano ultrasuoni e... Sam, ho trovato il cane. Davvero? No, volevo solo risparmiare al mondo il resto della tua storia. Chiamami quando hai trovato il cane. St Familii diробi. Ciao! Non, è vero! Quanti si trovi le nostre monterai per non Quasi finito, torti! Quasi finito! Quasi finito, torti! Quasi finito, torti! Peccato, missione fallita. Ora che si fa? Prima di mollare, prova al negozio di giocanti. Ma arrendermi è la mia mossa speciale. Stupido. Quell'urker si annoia. Forza dovrei ucciderlo. Quasi finito, torti! 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 E ricorda che voglio l'erica! Non temere! Devi solo portare qualcosa al cane! Ok, cane, ho una cosa che ti piacerà. Funziona, ti prego! Vuoi giocare a riportarmelo? Vuoi che lo lanci così lo rincorri? Ehi! Magari posso divertirmi anch'io! Tipo che... Sì! Cazzo! Ehi, Sam! Ho fatto divertire questo stupido cane! Ora come lo riavvio? Lo so che non è una buona notizia per te, ma lo deve fare Margaret qui! Ah, e ti pareva! Cerca di abituarti ai suoi movimenti! La via del ritorno è lunga! Grazie per avermelo ricordato! Vallo a prendere! Chi ha preso il micio? Chi è stato? Chi ce l'ha il micetto? Se lanci cutie cutie vicino a una struttura, Bubu farà un numero! Mentre è in modalità di ripristino, il cane va solo nei luoghi che riconosce! Margaret portava sempre a spasso Bubu sul ponte nord! Prova ad attirarlo lì! Un'altra cosa, non usare le armi! Saresti una minaccia per il cane, ti ucciderebbe! Almeno così finirebbe tutto! Non temere! Finché avrai cutie cutie, il cane ti difenderà! Fai una prova! È uno spettacolo! Allora, cane! Seppa dice che sei una macchina per uccidere! Vediamo se riesci a far fuori qualche altro! Vallo a prendere! Chi ha preso il micio? Chi è stato? Chi ce l'ha il micetto? Coco! Finiscilo! Lo rifacciamo? Allora, cucciolotto, vediamo se riesci a saltare! Panos! Vallo a prendere! Ok, Margaret dove portava a spasso il cane? Spero sia un posto pieno di nemici da uccidere Raggiungi l'incrocio e prendi la strada principale fino a Sasquatch and Friends Ho ucciso Eddie per rubargli i cutie kitty Adesso ti ammazziamo Merda Cucciolotto, vai con il rock and roll Prendi Agri, scab Vanno a prendere Sei proprio un bravo cane, eh? Spero che ti becchi la roborabbia Forza, ci sei quasi Torna al Sasquatch Porca troia Sam, se muoio per dipendere un cane finto, mi incazzo sul serio Non si capisce mica chi sta proteggendo chi Un'altra parola e tirano sul gatto addosso Springati Siamo io in verità Alla carica Vanno a prendere Prendi Fuori, ci sono troppi OD Non possiamo aprire le porte Finché non li elimini tutti Ehi, bello Ehi, bello Oh no Cos'è il comando di un negozio? Ehi, bello In arrivo Ah, è tanto per morire Prendi Spero che ti becchi la roborabbia Prendi Aria scombra Bene Ora apro le porte Vanno a prendere Chi ha preso il micio? Chi è stato? Chi ce l'ha il micetto? Bubu Mi sei mancato anche tu Grazie, Sam Sei il migliore Lo so Non c'è di che Già Proprio un ottimo lavoro Se è me